Nei prossimi anni la Basilicata avrà tre nuovi beati, si tratta di Monsignor Vincenzo Cozzi, madre Gemma adesso e donna Tommaso Latronico. La conferenza episcopale di Basilicata infatti ha dato definitivamente parere positivo per l'introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione di Monsignor Cozzi e di madre adesso e parere positivo per l'introduzione della medesima causa per donna Latronico Monsignor Vincenzo Cozzi, ricordiamo, è stato vescovo di Melfi Rapolla Venosa, madre Gemma adesso, è stata fondatrice delle piancelle della madre di Dio con sede in San Chirico Nuovo nella diocesi di Acerenza. Don Tommaso Latronico è stato parroco di Novasiri Paese per la diocesi di Tursi Lago Negro. A laurea poi la 12 ottobre 2022 è stato aperto l'anno giubilare lentiniano a 25 anni dalla beatificazione del sacerdote lucano Don Domenico Lentini e qui è stata elevata a santuario diocesano la chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari dove sono custodite le spoglie mortali del beato lauriota. Inoltre la conferenza episcopale di Basilicata ha sottolineato che sul suggerimento della Caritas nazionale ha avuto luogo anche il gemellaggio della Caritas di Basilicata con quella di una nazione dell'est per noi la Georgia, specie per l'accoglienza dei profughi ucraini che si rifugiano altrove a causa della terribile situazione nel loro paese per l'invasione devastante della Russia.